Buongiorno a tutti ragazzi e buon lunedì. Prima di tutto vorrei parlare un'ultima volta degli avversari, poi parleremo di noi, ci sarà il modo di farlo anche nelle pagelle che sono in programma come al solito per l'ora di pranzo, forse oggi usciranno anche un pochettino dopo, saranno un pelio in ritardo, però le pagelle sono come sempre il giorno dopo la partita, l'ora di pranzo, dove parleremo di noi. Ma De Rossi mi sta veramente convincendo tanto, ma veramente tanto, dal modo in cui ha approcciato questa avventura d'allenatore della Roma al modo in cui comunica e soprattutto il modo in cui riesce ad apparire sempre costantemente umile. Ieri ai microfoni sia di Sky che di The Zone perché ho sentito entrambe le interviste post partita, De Rossi ha sottolineato e ripeto ancora una volta con grande umiltà che è addirittura andato a chiedere ad Allegri perché è un'allenatore che lui considera storico per il calcio italiano, i risultati parlano comunque per Allegri all'interno di queste partite qui e De Rossi è andato a chiedergli come poterla ribaltare. Poi è ovvio che lascia un po' il tempo che trova, no? Nel senso la risposta che ha dato Allegri poi è una risposta un po' così e cioè si può fare quello anche al sessantesimo, sì De Rossi ne era consapevole, ma la cosa veramente importante è osservare come ci sia un allenatore che ha appena iniziato ad approcciarsi a questi livelli e con questo mestiere che ha ancora voglia di essere umile. Veramente una rarità all'interno del mondo del calcio, quindi complimenti a De Rossi, spero che possa non perdere mai questa bontà d'animo e questa purezza che lo contraddistingue. Non mi sono piaciute alcune uscite di Allegri, intanto credo che sentirsi dire l'inter era nettamente più forte non sia una roba bella. Ragazzi hai maggior ragione perché siamo stati lì attaccati all'inter fino a gennaio, l'inter sembrava più forte, sì lo era, l'inter era più forte, sì lo ha dimostrato, però io credo anche che ci debba essere un po' di orgoglio, di amor proprio nel cercare di dire ok proviamo a ridurre quello svantaggio, anche perché poi sembra anche una cosa noiosa, però dopo senti le persone che solitamente sono quelle che difendono Allegri, io sento Zazzaroni che dice che la Juventus l'anno prossimo per competere per lo scudetto dovrà comprare 11 giocatori, 7 titolari o 4 titolari e 7 riservi o viceversa e dar via tanti giocatori, cioè dopo diventa veramente la sagra dell'esagerazione, un'intera puntata del club di Sky dicendo la Juve ha dei limiti tecnici, la Juve ha dei limiti in dirigenza, l'unica tematica che non viene mai toccata è quella dell'allenatore, cioè dopo per forza di cose il tifoso, dopo 14 punti in 14 partite, che continua a sentire le giustificazioni legate alla rosa, legate alla dirigenza eccetera eccetera, da parte di chi sta intorno all'allenatore, è l'allenatore che continua a dire eh vabbè ma gli altri hanno più forti, cosa ci puoi fare? Anche perché non è possibile che quando viene chiesta un'analisi ad Allegri per quella che è la situazione della Juventus, perché noi forse ci stiamo dimenticando, sembra quasi di vivere in un mondo parallelo no? ma tu sei la Juventus, vieni da 14 punti nelle ultime 14 partite, dopo aver fatto un giornale d'andata in cui eri attaccato dal punto di vista del rendimento alla prima squadra in Italia che è l'Inter, che viene definita nettamente più forte tu scivoli, cadi e dopo 14 partite mi tocca sentire ancora una volta che eh però poi sono andati via gli altri, noi mentalmente non abbiamo retto l'urto, non era più facile mantenere il focus principale su quelli che erano davanti abbiamo iniziato a riguardare un po' quelli che avevamo dietro, che sono gli attaccati e per fortuna nostra anche loro hanno iniziato un po' a scivolare non è possibile dopo 14 partite con due vittorie soltanto e 14 punti stare ancora qui a raccontarsi che è in quel momento in cui gli altri si sono scappati via e non abbiamo retto la pressione ma è ancora più incredibile se ci pensate dopo 14 punti, in 14 partite, dopo il giornale di ritorno peggiore della storia della Juventus o giù di lì stare qui a dire ma secondo noi l'allenatore va confermato oppure no? mi sembra veramente di vivere in una realtà parallela, qui non si sta neanche più parlando per meriti per quello che ci racconta il campo, per quella che è la percezione, per il fatto che la Juventus sembra entrata in una crisi pressoché infinita noi siamo ancora qui che ci raccontiamo ma che cosa deve fare Allegri per essere confermato? ma secondo voi rimane? ma secondo voi lo esonerano? ragazzi ma a me sembra quasi davvero di descrivere un qualcosa che non esiste e comunque all'interno dei salotti televisivi si continua a parlare e a dire eh sì però sai questo, questo, quell'altro la gestione di Allegri di questa seconda parte di stagione è da manicomio la gestione di questi tre anni di Allegri è insufficiente e Juventus vuole partire con un nuovo progetto e lo farà e dopo 14 punti in 14 partite io non posso sentire che il problema è che gli è mancato Pogba o gli è mancato Fagioli perché sicuramente l'assenza di Pogba e Fagioli sono state due essenze pesanti la Juventus aveva preparato e pensato la stagione in tutt'altro modo aveva ragionato su una rosa più lunga, su una rosa più qualitativa ma io posso capire che senza Pogba e Fagioli invece che 80 punti me ne fai 75 72 70 cioè esagero, butto dei numeri a caso mancano 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti senza questi due giocatori che tu avevi pensato di avere ma dopo 14 punti in 14 partite sentire eh quella mezz'ora di Pogba se ce l'avessi avuto Pogba anche se non stava bene quella mezz'ora poi me lo cambiava mi sembra davvero quasi un'offesa all'intelligenza delle persone e io non riesco a pensare che nei post partita dopo 14 punti in 14 partite con la Juventus che è vicina al record peggiore dal post 2006 in poi anche solo per gol segnati che l'analisi eh sì ma ce ne sono mancati Pogba e Fagioli possa andare bene possa andare bene con l'Inter che era nettamente più forte e quindi va bene così cioè per dire superato anche il Milan il Milan era nettamente più forte beh non sembra vedere un gran Milan anzi tutto sommato mi sembra vedere una squadraccia un po' come noi una squadra altalenante una squadra che non è riuscita a mantenere il passo con i tempi ma ribadisco dopo 14 punti in 14 partite e lo voglio ribadire ancora una volta perché qui la stiamo facendo passare come una cosa normale cioè qui siamo a dirci che il punto con la Roma è importante perché almeno la Roma non ce li recupera a 2-3 giornate dalla fine e quindi quel punto ci avvicina alla matematica perché le servano altri 3 ma non perché sia il modo logico di ragionare sulla Juventus lo diventa quando fai 14 punti in 14 partite allora quel punto che ti impedisce di farti raggiungere la Roma diventa importante ma non perché lo sia davvero perché lo diventa per forza di cose perché non puoi oggi dire vado a Roma e sono sicuro di vincere di chiudere i conti qualificazioni perché cavolo se sono forte non puoi fare questo tipo di ragionamento non puoi ragionare così è del campo che ti porta a parlarle di queste cose qui ora io non so qual è il giochino dietro sempre a caressa Zazzaroni di Tiago Motta si è allontanato dalla Juventus la Juventus ha scelto Tiago Motta ma lui in realtà ha in mente altre cose occhio le piste occhio perché non è più certo si sta allontanando sta dando priorità ad altri club non ne ho idea di quale sia il giochino magari è davvero così magari Tiago Motta ha ricevuto una chiamata da Parigi e ha detto guarda vabbè è prima parola con la Juve ma preferisco allenare il PSG non so la sto buttando lì non so neanche se il PSG ha necessità di cambiare allenatore tra le altre cose non so neanche se il suo pensiero in questo momento dato che sta facendo una semifinale di Champions ma facciamo anche finta che possa succedere che da Parigi chiamano oh guarda Motta sei stato tanto bene da noi sei stato 6, 7, 8 anni vorremmo anche per favore vabbè dai ci penso è l'unica no? viene da dire perché puoi far passare Motta per quello che ha preso parola con la Juventus ha già dato priorità alla Juve in testa c'è solo la Juve una volta qualificato il Bologna alla Champions ha raggiunto l'obiettivo che raggiungerà ripeto io non ho idea di quale sia la dettrologia di questa roba qui non sarà Tiago Motta l'allenatore della Juventus l'anno prossimo non sarà comunque Massimiliano Allegri perché è inutile farla guerra a Tiago Motta è veramente inutile dannoso e anche raccapricciante anche qualcosa di vergoglioso mettersi qui a fare le pulce un allenatore che sta portando il Bologna in Champions League il Bologna in Champions League sta portando ed è la prova vivente di come a volte si riescono a superare dei limiti che vengono autoimposti o imposti da dei ragionamenti soggettivi dei ragionamenti soggettivi ragazzi l'Inter l'anno scorso arriva a pari punti con la Juventus non so se ce lo ricordiamo a maggio dell'anno scorso con la Juve nel ciclone nella tempesta nell'extracampo e nei punti sì e nei punti no alla fine arriviamo tutti e due 72 punti terzo posto a pari merito l'Inter nettamente più forte che quest'estate ha comunque dovuto fare delle cessioni che sulla carta sembravano anche delle cessioni che andavano a indebolirla quando è diventata l'Inter nettamente più forte quando è che la Juventus è diventata nettamente più scarsa dell'Inter a cui l'anno scorso è arrivata a pari punti quando la Juventus quest'anno ha ceduto Bonucci Paredes di Maria Equadrado giocatori che sono stati anche mandati via perché sembravano essere tra virgolette delle mele marce dentro lo spogliatoio cioè ci sono proprio dei problemi di analisi logica delle situazioni ragazzi cioè qui stiamo veramente vivendo in un mondo in cui vogliono farci credere che la Juventus dal niente non può più lottare non può neanche più sperare non può più neanche immaginarsi lì ci vorrà troppo tempo per vincere ci vorranno 100 campagne acquisti per tornare a vincere è vietato pensare di cambiare una guida tecnica se fai 14 punti in 14 partite è perché a un certo punto due centrocampisti che pensai di avere non li hai avuti equivalgono a un infortunio quelle robe lì cioè Pogba e Fagioli vedili come un infortunio non come una squalifica sono cose che succedono in una stagione però se per tre anni di fila tu arrivi sempre a fare intorno ai 70 punti sempre a 20 punti dalla prima classificata mai a lottare lo scudetto fino all'ultima giornata sempre con pochi gol fatti cioè alla fine possiamo metterci dentro tutto nel calderone ma c'è una sola spiegazione e una sola conclusione che magari non sarà Tiagomotto al prossimo non dovrà esserne comunque nemmeno Massimiliano Allegri